Alfa Mito Fitness Driver, la vostra Mito diventa una palestra. All'ultimo appuntamento con il Rimini Wellness 2011, è stata presentata l'Alfa Romeo Mito Fitness Driver, l'automobile capace di farci eseguire esercizi ginnici all'interno o all'esterno dell'abitacolo, dal parco fuori città al parcheggio del vostro ufficio, permettendovi di non dover mai venire meno ai vostri appuntamenti con il fitness. Un allenamento che l'Alfa Mito permette grazie alla dotazione di un'asta in fibra di vetro molto resistente, allacciata all'estremità da due elastici. Vedendo la foto che segue comunque vi farete un'idea migliore delle mille parole che spenderei per descriverla. Si tratta dell'attrezzo TRX Suspension Trainer, molto versatile nell'utilizzo e preferito dagli amanti dei fitness che vogliono potersi cimentare in più esercizi avendo a disposizione un solo attrezzo. Il TRX era già di per sé conosciuto come attrezzo fitness portatile per allenarsi ovunque e l'Alfa Mito ora non fa che rendere migliore questa sua caratteristica, visto che l'automobile, sia al suo interno che all'esterno, offre la componentistica giusta per poter utilizzare il TRX al meglio. L'Alfa Mito Fitness Driver è soltanto l'ultima offerta rivolta alla clientela di giovani automobilisti della Mito, già di per sé tecnologizzati e al passo coi tempi al punto giusto. Una curiosità niente male questa, che vi segnalamo proprio nei giorni in cui la pubblicità Alfa Romeo ha abbandonato l'agenzia Leo Barnett, quella dello spot Giulietta con Uma Thurman, per affidarsi alla prestigiosa Armando Testa. Insomma, niente fantasie con la Thurman che fa fitness mostrando a destra in manca un Amito che sta lì tutta per lei, un vero peccato. Grazie. 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 Grazie.